C'è stata ovviamente molta economia nel duello tra Giannino e Letta, ospiti da Ilaria D'Amico. Si è cominciato con la stretta attualità, il caso MPS, quindi fondazioni bancarie, banche private. Sentiamo che cosa ha detto Giannino, la sua affermazione oggetto del nostro primo fact-checking. Le fondazioni bancarie che controllano ancora, continuano a esercitare il controllo delle banche private quotate, sono un problema, perché quando ce le siamo inventate vent'anni fa era necessario farlo, perché altrimenti le banche privatizzate chi se le prendevano al controllo. Però dovevano perderlo al controllo, non lo hanno perso, in particolare a Siena, che era ancora sopra il 50% in violazione di quello che diceva la legge Ciampi. I ricercatori della Facoltà di Economia di Tor Vergata hanno giudicato questa affermazione di Giannino come corrispondente al vero. Infatti al 2010, parliamo quindi di MPS, la quota detenuta dalla fondazione sul capitale votante era pari al 54,86%, una quota poi scesa nel febbraio 2012 al 48,93%. Si è parlato anche delle politiche per il lavoro e del tema che sappiamo essere centrale in questa campagna elettorale della riduzione del peso fiscale. E qui sentiamo invece Enrico Letta. L'Italia è uno dei paesi che ce l'ha in Europa questa differenza tra quanto paga l'imprenditore, quanto vede il lavoratore, una delle differenze più elevate. E questo cosa su fa? Fa sì che vi è uno stimolo fortissimo all'economia in nero. E anche in questo caso l'affermazione risulta corretta, quindi il giudizio dei ricercatori è vero. Come confermato da dati euro, state anche Ocse del 2011 che fotografano l'Italia al sesto posto per quanto riguarda, stavamo parlando appunto, del cuneo fiscale. Quindi per questa sera da Tor Vergata è tutto. Grazie, grazie a Livia Michilli. Come in ogni puntata dello Spoglio vi abbiamo chiesto chi vi sta convincendo di più fra Oscar, Giannino ed Enrico Letta. Ed ecco come la pensate. Giannino, 72%, Letta, 21%. C'è un 7% di voi che è rimasto invece indeciso. Ricordiamo che il nostro non è un sondaggio a carattere scientifico ma è una manifestazione di opinione, una rilevazione aperta a tutti i nostri telespettatori. Ogni lunedì e mercoledì in occasione dello Spoglio si può partecipare alla trasmissione ed esprimere la propria preferenza tramite il nostro MySky connesso ad internet premendo il tasto verde del telecomando Sky. È possibile dire la propria anche attraverso l'App TG24 per iPad e iPhone scaricabile gratuitamente. Al termine della puntata dello Spoglio vi proporremo, cioè la puntata è finita, più tardi vi proporremo i risultati finali di quella che lo ribadiamo è soltanto una rilevazione aperta e senza carattere scientifico.